ciao amici come state? bevo un cucchiaino che si avvicina avete visto? sono i ganderetti si finalmente stavo morendo di fame gnammi 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 buonissimi sono felice non ce ne sono più Maria? dai, dammene ancora no va bene amici avete visto come sono bello quando mangio? ce ne dite? si adesso faccio una bella nuotata mi raccomando vi aspetto al prossimo video ciao